A Napoli non esistono piazze fasciste, a Napoli esistono piazze antifasciste. Napoli è stata la prima città d'Europa a liberarsi dal 28 settembre al 1 ottobre 1943 dal nazifascismo e una rivolta di popolo. È una città nel DNA antifascista e da quando io sono sindaco le iniziative antifasciste sono state ancora maggiori rispetto al passato, quindi quello scempio sarà eliminato. Noi ci identifichiamo ovviamente nel Pulcinella di Vico Fico a Purgatorio, nel Vasci Tour di ieri, delle donne di Forcella che interpretavano teatro, degli scunnizi che camminavano insieme a noi. L'immagine più bella come si è chiusa ieri l'iniziativa era questo ragazzino che si è fatto, ha interpretato le quattro giornate di Napoli tenendo in testa l'elmetto di un soldato nazista che il nonno 87enne in vita aveva strappato a un tedesco durante la liberazione dal nazifascismo. Cioè Napoli mica si è liberata della camorra. Napoli c'è ancora gente che vorrebbe sopraffare, c'è gente che vorrebbe ritornare avere rapporti con la politica, con le istituzioni, che non sono anche... C'è un'attività di sradicamento che si deve consolidare all'interno delle ramificazioni che ci sono nell'economia, nelle istituzioni, nei rapporti anche con circuiti della cosiddetta società civile. Anche per strada ci sono ancora troppi episodi violenti che sono molto pericolosi e che non vanno affatto sottovalutati, le sparatorie di questi giorni a Napoli come nella zona città metropolitana. Insomma la situazione è di una città in grande ripresa, in grande riscatto, in grande voglia di vivere ma con ancora un male che si deve definitivamente estirpare. Però la battaglia che abbiamo messo in campo, la stragrande maggioranza di Napoletane è una battaglia vera, è una battaglia forte, è una battaglia in cui crediamo e è una battaglia che vinceremo.